Ho lasciato tanti amici qua, non ho avuto tanto successo come volevo dentro il campo, però qui ho lasciato tanti amici, abbiamo vissuto periodi intensi, mi è piaciuto tanto tornare qua, dispiace tanto per il risultato, perché al di là delle emozioni, al di là del ritorno contro una squadra che ho giocato poco tempo fa, vale sempre tutto puntato sulla vittoria della squadra, della Lazio, dispiace perché abbiamo avuto un risultato negativo stasera, però è stato bello vedere tutti i compagni, ex compagni e adesso andiamo avanti, dobbiamo tirare fuori questa difficoltà che ci abbiamo messo, c'è una partita di ritorno e vogliamo vincere, e questo ruolo è sì nuovo, però il miss ci sta dando fiducia, ci dice quello che dobbiamo fare, i movimenti, sto imparando, credo che posso crescere tanto in questo ruolo pure. Ciao Felipe, eccomi qua, intanto ti volevo chiedere, più in generale l'impatto della Lazio in questa partita, Maurizio Sarri ieri era molto curioso di capire come avrebbe giocato questa Lazio stasera, ti chiedo un parere al netto del risultato, e poi invece una considerazione sul tuo rendimento alla Lazio, tu sei partito benissimo, poi dopo quel Lazio-Inter sei un pochino uscito fuori di scena, stasera hai giocato di nuovo titolare qui a Porto, ti chiedo come stai giudicando questo tuo ritorno alla Lazio, se sei soddisfatto, se pensi invece di dover fare ancora molto di più. Sì, la partita stasera è il primo tempo, credo che abbiamo fatto molto bene, abbiamo, al di là che abbiamo preso il gol, eravamo con il controllo della partita, abbiamo avuto pure occasioni di chiuderla, di fare altri gol, però capire quegli errori che abbiamo fatto al secondo tempo, all'inizio il nostro ingresso di squadra, non è stato molto intenso come vogliamo fare, e sì, sicuramente io sto lavorando con tutte le forze per crescere ogni giorno, sono sicuro che posso dare ancora di più, però io vedo ogni giorno che tutti mi sostengono, e quello è importante, sono sicuro che arriveranno i momenti belli di nuovo. Ciao, buona notte, Filippo Anabarros per a RTP, per ripetirei un bocadino una question che già l'ho foi feita ora per i canali portuguesi, di che forma incarò questo regresso al Dragão e che emozioni è che l'ho trouxe a giocare qui di nuovo nel Stadio del Dragão, e questa baixa di ultima ora del giro immobile, se affettò a equipa e se acha che ora, nella seconda mano, con una eliminatoria in aberto, potrà essere uno dei giocatori che può fare la differenza? Com'io sicuro è una emozione molto bella, veri uns amici che lasciati qui, le ricevono molto bene, un carino molto grande, io converso con loro, ho darti un torcito con loro nel campionato, sto molto felice per il successo dei dei, e fu una emozione molto grande, veri il giocatore di nuovo, Grazie, grazie.